Cosa possiamo fare e vogliamo fare noi come Snyder Electric per andare incontro e collaborare con i nostri clienti e le persone per aumentare la crescita? Tantissimo noi possiamo fare in termini di efficientamento energetico, tanti sono tutt'oggi gli sprechi sia nel data center sia nell'industria da un punto di vista dell'efficientamento e tanto si può fare assolutamente nell'aumentare il livello di sicurezza fisica delle infrastrutture che sempre di più convergono, dove c'è una completa integrazione dell'infrastruttura fisica di tutte le varie componenti di impianto elettrico, condizionamento, supervisione, fino ad arrivare all'integrazione con gli strati superiori e dal governo del data center stesso attraverso il data center Infrastructure Management. Quindi quello che possiamo fare è collaborare sempre di più per fare di più con meno, riducendo i costi e aiutando le persone ad innovare attraverso infrastrutture resilienti, integrate e facili da realizzare e da mantenere.